Buongiorno a tutti, benvenuti. Video non semplice, filmato non semplice, ve lo dico subito così capiamo subito di che cosa si tratta. Non semplice perché è chiaro che tutti noi, come tutti voi, avremmo preferito insomma in questo momento stare al di fuori delle polemiche e delle tensioni e pensare soltanto al patrimonio più importante, al bene comune che è il calcio, il calcio che non sappiamo ancora quando riprenderà e che non sappiamo ancora quando tornerà davvero calcio perché oggi faremmo carte false pur di tornare a giocare una partita, a vedere una partita ufficiale anche se a porte chiuse ma sappiamo bene che il calcio, quello vero, non è a porte chiuse, quello è un altro calcio, meglio che niente ma è un altro calcio. E invece ci ritroviamo naturalmente, vi ritrovate anche voi tifosi, un po' a disagio per polemiche, tensioni e frasi che evidentemente poi coinvolgono anche bandiere assolute, bandiere immortali della storia del Milan e quindi è chiaro che tutti voi tifosi, tutti noi tifosi siamo evidentemente più sensibili. Allora, oggi mi è capitato di leggere da qualche parte sui giornali il Milan immola ancora le sue bandiere dopo Leonardo, Gattuso e Boban, anche Maldini. Intanto ho un distingo da fare subito. Leonardo è un cittadino del calcio, è stato tantissimi anni al Milan, però Leonardo era stato anche all'Inter, era stato al Paris Saint Germain, è tornato al Paris Saint Germain, quindi è stato certamente per 13 anni giocatore, dirigente, allenatore del Milan, però non è una bandiera rossonera, punto e basta. È un cittadino del calcio, un cittadino del mondo che ha fatto la sua scelta, è stato forse anche meno di un anno da noi, perché è arrivato a luglio del 18, è andato via a fine maggio del 19, quindi anche meno di un anno, per cui farei un distingo su Leonardo, ma lo farei anche su Rino Gattuso, perché qui nella tesi del giornale che scrive questa cosa è la proprietà cattivona che fa fuori le sue bandiere. Rino Gattuso non è andato via per la proprietà. Rino Gattuso se avesse potuto parlare direttamente con la proprietà sarebbe rimasto al Milan. Quindi non è una questione con la proprietà quella di Rino Gattuso. Mi spiace che venga aggiunto il nome di Rino Gattuso alla lista, della quale lista comunque Paolo Maldini non fa parte, perché a mio personalissimo giudizio l'intervento di ieri di Paolo Maldini non è stato per preannunciare il suo addio, ma è stato per difendere il suo ruolo, e dal suo punto di vista, se possibile, se ci saranno le condizioni per rimanere al Milan. Paolo Maldini non è uno che abbandona così da un minuto all'altro. L'intervento di ieri di Paolo Maldini è per continuare a rimanere nel Milan e per continuare a lavorare per il Milan mettendo il bene del Milan al primo posto. Quindi di questo io non ne ho parlato evidentemente direttamente con Paolo, ma ne sono in cuor mio abbastanza convinto, anzi convinto, punto, senza abbastanza. Però Rino Gattuso nella scorsa stagione ha avuto qualche attrito con la dirigenza sportiva del Milan, non con la proprietà del Milan, quindi eviterei di fare l'aggiunta di Gattuso all'elenco eventuale delle bandiere ammainate, delle bandiere rispetto alle quali la proprietà del Milan è stata brutta e cattiva. Dico proprietà del Milan perché è un tema questo che insegue il Milan da parecchio tempo. Qui, prima di entrare nello specifico di questa stagione, Paolo Maldini, Ralf Rangnick, Stefano Pioli, Zwani Birboban, tutto quello che volete, cerchiamo di capire storicamente da dove viene questo discorso delle bandiere. Naturalmente, mia opinione, poi più saranno i disaccordi nei messaggi che mi manderete e meglio sarà, meglio anche per me per capire bene invece che cosa pensano i tifosi ed evidentemente avere altri punti di vista, arricchire magari in altri video il mio stesso punto di vista con i vostri. Allora, se non sbaglio, il Milan ha fatto 25 anni ad altissimo livello italiano, europeo e mondiale con una dirigenza composta da Silvio Berlusconi, Adriano Gagliani, Aniedo Braida, Umberto Gandini e Silvano Ramaccioni. Nessuno di questi cinque che ho citato era stato un ex giocatore del Milan o era stata una bandiera del Milan. Quindi, però sono stati un team, sono stati una squadra. Poi alla fine il milanismo che trasudava da questi cinque e che trasuda da questi cinque è gigantesco, pur senza aver mai indossato la maglia del Milan in nessuna gara ufficiale. Quindi, per 25 anni, nessuno ha mai messo in discussione questo, nessuno ha mai pensato il Milan ai milanisti era un tema che riguardava i quadri, che era un tema che riguardava alcune figure dirigenziali, non disperdere il sangue rossonero. Però un concetto che hanno sempre avuto chiari e che mi hanno sempre tramandato personalmente, Silvio Berlusconi e Adriano Gagliani, è stato questo. Non basta aver giocato bene sul campo per essere immediatamente, da un giorno all'altro, campioni anche dietro la scrivania. Si diventa campioni dietro la scrivania se si ha una indole, una vocazione e se si decide di azzerare tutto quello che è accaduto in campo per poter poi fare bene, imparando duro, il mestiere del dirigente. Però il tema delle bandiere al vertice dirigenziale del Milan nasce invece in un periodo molto preciso, nel periodo in cui iniziano a esserci due anime all'interno del Milan. Quindi vi parlo del fine 2012, tutto 2013, tutto 2014. Sono gli anni duri della creatura a due teste, delle due anime all'interno del Milan e in quegli anni da una delle due parti del Milan viene creata e sostenuta la tesi che poi hanno fatto loro opinionisti, ex calciatori, tifosi ad ogni livello eccetera eccetera. La tesi per la quale c'era al Milan un caterpillar, ossia Adriano Gagliani, un usurpatore delle bandiere che voleva fare tutto lui, che era incompetente, mentre bisognava far fare ai competenti, cioè a chi ha giocato, cioè a chi ha ricoperto il ruolo di bandiera del Milan sul campo. E questa tesi è stata molto forte, è stata molto robusta, tant'è che quando il Milan cambia proprietà, il primo pensiero della nuova proprietà cinese del Milan è stato proprio quello. Non bisogna più tenere fuori le bandiere dal Milan e bisogna quindi portarle dentro il Milan e dare incarichi dirigenziali, dare responsabilità di vertice e quindi senza limitare più a figure non milaniste la guida dell'Ilep. Poi l'operazione non riesce e torna di attualità con l'altro cambio di proprietà dalla proprietà cinese alla proprietà del fondo Elliot, che è l'attuale proprietà del Milan. E naturalmente, essendo questo concetto figlio di un'era in cui nel Milan c'erano due fazioni e due teste, se la nemesi, se diciamo, è una nemesi storica, cioè se la mamma di questa tesi è una fase storico-politica del Milan in cui c'era polemica, continua a suscitare polemiche. A mio giudizio, secondo una mia personalissima opinione, poi sia ben chiaro, gli errori li fanno e li hanno fatti i dirigenti che non hanno giocato, li fanno e li hanno fatti i dirigenti che hanno giocato, hanno fatto cose importanti i dirigenti che non hanno giocato e hanno fatto e fanno cose importanti i dirigenti che hanno giocato. La ricetta giusta non esiste, però volevo fissare con voi un punto, cioè la tesi, il Milan deve essere diretto dalle bandiere e dai milanisti e non da dirigenti che hanno fatto il loro tempo, è una tesi nata dentro il corpaccione del Milan che non è soltanto l'organigramma societario. Il corpaccione del Milan sono i suoi dirigenti, i suoi tifosi, i suoi media, i suoi umori, i suoi ambienti, eccetera, eccetera. La corpaccione del Milan è nata in un momento di tensione, di polemiche e quindi questa idea applicata, concretizzata sul campo con grandi sacrifici economici nel caso di Elliot continua ad essere un po' in quel senso lì, nel senso delle polemiche, delle contraposizioni, dei distingui. Quindi il Milan deve, per trovare pace, per trovare continuità, compattezza e solidità al proprio interno uscire da questa cosa che non significa ammainare le bandiere, significa avere un board, un comitato, un consiglio, una squadra dirigenziale, chiamatela come volete, che sia compatta, che sia unita, che agisca come se ogni cosa che viene fatta da uno dei quattro o uno dei cinque sia la stessa cosa che avrebbero fatto tutti gli altri quattro, tutti gli altri cinque. il Milan che ha vinto tutto per venticinque anni ha funzionato così. Quindi, e di questo board possono far parte dirigenti che hanno giocato, dirigenti che non hanno giocato, dirigenti che vengono da fuori, dirigenti che non vengono da fuori, chi volete voi, ma il modus operandi deve essere quello. Altrimenti, altrimenti, se si creano in un in un in un vertice di club i delitti di l'esa maestà, a quel punto poi finisce, finisce, diciamo, per definizione il concetto di compattezza e inizia il concetto della propria area che merita rispetto ma che deve condividere evidentemente con tutto il resto del club tutto ciò che fa. Per cui, questo è il punto che fisserei. Tutti noi non ne possiamo più di perdere e non ne possiamo più di polemiche. Non ne possiamo più di ripartire da zero. Non ne possiamo più che da tanti anni il Milan non è più quello che abbiamo conosciuto. Il Milan era un monolite e da fine 2012 che non lo è più. E quindi lo vogliamo ritrovare. Penso che sia... Perché poi il monolite società e la condicio sine qua non è la prima base di ripartenza per tornare poi a vincere sul campo. Su questo credo che noi si sia ragionevolmente tutti d'accordo. Almeno credo e almeno penso. Poi ho fatto tanta teoria e mi scuso con voi. Proviamo a scendere nel pratico di questa stagione. In questa stagione che cosa succede? Succede che il Milan tiene fermo lo schema dirigenziale della stagione precedente. Poi Leonardo ha voluto per sua scelta dopo le operazioni Paketai Piontek ha voluto per sua scelta lasciare il club perché evidentemente le idee non collimavano lo ha fatto in silenzio. Lo ha fatto in silenzio. Leo è andato via? Voi sapete perché è andato via? No. È andato in silenzio. Ha staccato la spina e è andato a lavorare altrove. Poi è chiaro che ogni bandiera ogni cavallo di razza ogni puro sangue ogni ex giocatore ha il suo di carattere ha la sua di personalità e quindi ciascuno fa come meglio crede. Però Elliot ha tenuto lo stesso schema c'erano Leonardo Maldini facciamo Boban Maldini lo schema è lo stesso cambia Leonardo e arriva il vicepresidente il vice direttore della FIFA cambia però lo schema è lo stesso quindi due grandi bandiere al vertice dell'area sportiva del club che non sono espressione della proprietà perché l'unica espressione della proprietà è il CEO Ivan Gazidis però evidentemente poi le aree hanno la loro sfera di influenza e hanno la loro base operativa. Il primo anno il Milan non è soddisfatto di quello che accade perché ci sono state tensioni fra l'area sportiva e la panchina e purtroppo a causa di quelle tensioni il Milan ha perso la qualificazione Champions League ed è arrivato quinto rinunciando a molti introiti dopo aver fatto tanti sacrifici economici nel corso della stagione perché se tu prendi pacchetta e pionte che poi arrivi quinto per un punto che se stai tranquillo compatto e sereno ne fai 4-5 di punti in più e sei tranquillamente in Champions è chiaro che la proprietà insomma un minimo di irrigidimento già ce l'ha se poi se poi a questa stagione in cui fallisci l'obiettivo per un punto ne segue una in cui purtroppo l'allenatore non è quello che avrebbe sognato la proprietà e diventa un allenatore che dopo poche poche settimane si capisce che non può andare avanti se anche la seconda stagione fallisce perché con le ottime intuizioni di mercato che ci sono state da parte del Milan perché io vorrei che si tornasse a parlare del Milan non di questo o quello il mercato lo fa il Milan non questo o quel dirigente il mercato lo fa il Milan e quindi il Milan ha avuto ottime intuizioni di mercato però senza la guida paterna di Gattuso alcuni giocatori sono scesi di tono fra cui Suso e Piontek e l'abbiamo evidentemente pagata se con tutta la buona volontà di Stefano Pioli che ha fatto bene Stefano Pioli sul piano professionale sul piano umano sul piano delle scelte bene naturalmente relativamente alle difficoltà della stagione no perché poi ci sono i tifosi che dicono ma come bene ma bene rispetto alle difficoltà della stagione perché anche inserire Ibra gennaio pronti via non è semplice Pioli l'ha fatto bene con la mano giusta la mano di Stefano Pioli è una mano ferma sul volante quindi una mano che personalmente mi piace molto ma torniamo a noi per sgomberare il campo se per la seconda stagione consecutiva la stagione è un fallimento e ogni anno in media ci sono 70 80 100 milioni di perdite la proprietà e il suo CEO che ne è emanazione ha diritto di intervenire il dovere di intervenire e quindi e quindi poi lo fa secondo alcuni comunicando secondo altri non comunicando secondo alcuni condividendo secondo altri condividendo non lo so non è questo il punto una proprietà è la sua emanazione cioè il CEO di fronte a due gravi fallimenti sportivi ed economici ha il diritto di intervenire e bisogna avere la sensibilità di capirlo quindi questo diciamo è lo sfondo la cornice di fronte alla quale ci troviamo ci troviamo in questo momento in questa cornice poi metteteci metteteci chi volete voi e naturalmente ci saranno sempre e mancherebbe altro i sostenitori delle bandiere del Milan perché il bello del Milan il bello del calcio l'affetto nei confronti delle delle proprie bandiere dei propri testimonial del proprio cuore degli sfondi della propria vita questo questo è giusto e poi ripeto se noi avessimo aggiunto questo mercato alla continuità tecnica se noi avessimo continuato con la squadra dell'anno scorso con questo mercato fatto quest'anno avremmo vissuto una stagione diversa perché avremmo aggiunto un buon mercato ad una buona stagione anche se purtroppo quel punto secondo me grida vendetta invece abbiamo azzerato la panchina siamo ripartiti con una idea affascinante che a me piaceva l'idea di Giampaolo personalmente per quello che gli avevo visto fare nella Sampdoria a me piaceva quindi non mi nascondo dietro un dito invece azzeriamo la panchina arriva un'idea affascinante che purtroppo fa fatica alcuni giocatori scendono di tono rispetto all'anno precedente non riesci subito anche per l'infortunio di Teo Hernandez ad aggiungere i nuovi e la stagione entra in un loop negativo e siamo oggi siamo oggi dove c'è una situazione difficile a prescindere il coronavirus l'allenarsi con le mascherine il protocollo è dura è dura Paolo Maldini Ricchi Massara e Stefano Pioli stanno affrontando una situazione dura difficile non semplice con con una parte sportiva che deve riprendere un campionato che non si sa se riprenderà oppure se riprenderà giugno oppure se riprenderà settembre non si sa niente quindi è dura con i giocatori che vanno rimotivati la questione degli ingaggi le difficoltà economiche dei club italiani se non riparte il campionato una situazione difficilissima è una situazione nella quale stanno mettendo le mani Paolo Maldini Ricchi Massara e Stefano Pioli che merita rispetto io personalmente l'ho scritto fin da sabato scorso e l'ho detto anche in questi video e quindi dalla Germania obiettivamente stanno arrivando troppe dichiarazioni troppe troppe e non rispettose della realtà attuale poi magari in Germania non ci si rende conto per carità ogni ogni di ogni situazione non ne possiamo non ne posso rispondere perché non la conosco però magari non ci si rende conto si parla si cerca di mettere un po' di pressione si cerca di 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 quagliare le cose però in questo momento non è rispettoso parlare di chi sta dei ruoli e degli incarichi di chi sta svolgendo un un compito molto difficile molto arlo su questo su questo siamo perfettamente d'accordo poi c'è il resto poi ci sono anche altre tematiche io ad esempio leggo leggo alcuni interventi leggo alcune opinioni dice il silenzio di Gazzidis questa voglia a tutti i costi di colpire Gazzidis non so perché oppure sarà giusto oppure sbaglio io a difenderlo non lo so dico però che il silenzio di Ivan Gazzidis non è solo il silenzio di Ivan Gazzidis è il silenzio della proprietà c'è una dichiarazione dura alle agenzie di un altissimo dirigente del Milan e della storia del Milan come Paolo Maldini contro le dichiarazioni di Ralf Rangnick che non ha nessun contratto con il Milan bene è chiaro che la società e la proprietà sanno che mediaticamente è una questione che riguarda da vicino da vicinissimo il Milan e che lo sbatte su tutti i giornali in tutti i titoli dei giornali dei telegiornali e dei siti però rispetto alla visione futura del Milan e rispetto alla diciamo all'ufficialità del Milan il Milan è libero di decidere di non intervenire non è una questione che chiama in causa direttamente figure aziendali non è una questione che riguarda che chiama in causa direttamente la proprietà aziendale per cui è una querel e in quanto tale una querel che non ha comportato comunicati ufficiali da parte del Milan le dichiarazioni di Paolo Maldini sono state affidate all'ANSA non al sito del Milan non all'app del Milan non ai social media del Milan non al club channel del Milan quindi è una situazione molto del Milan interna al Milan non vivo nella torre d'avorio non vivo sulla luna ma formalmente esterna al Milan rispetto alla quale la proprietà è libera di scegliere di non intervenire anche se evidentemente fa le sue valutazioni sulle cose che vengono dette in Germania e sull'orgoglio con cui l'attuale dirigenza sportiva del Milan evita ogni tipo di destabilizzazione poi la proprietà le sue valutazioni evidentemente le fa ci sono poi delle critiche all'esterno leggevo stamattina Massimo Brambati voi direte chi è Massimo Brambati Massimo Brambati è un ex giocatore che evidentemente mai in carriera è stato un milione di volte un milionesimo accostabile da Paolo Maldini ma che fa l'opinionista non è mai particolarmente tenero nei confronti del Milan non è milanista anzi però ad esempio io ci sto attento perché lo scorso settembre su Higuain ci aveva preso quando aveva detto a settembre del 2018 non a settembre 2019 quindi non lo scorso l'altro ancora aveva detto che Higuain a stanco del Milan era vero era vero e quindi bisogna starci attenti quando Massimo Brambati dice un alto dirigente del Milan non deve fare le dirette sui social in generale ma deve limitarsi a fare quello che fanno i prodotti ufficiali dei club i contenuti ufficiali dei club è un'opinione è un'opinione e qui probabilmente c'entra anche il fatto che Paolo Maldini ritiene che tutte le volte che parla che parla lui che ha anagrammato nel suo cognome la parola Milan e che con la sua famiglia rappresenta decenni e decenni e decenni di gloria del Milan non ci sia bisogno del sigillo dei media ufficiali ma evidentemente sia giusto parlare in quanto in quanto Maldini in quanto Milan liberamente con chiunque Paolo Maldini di recente ha dichiarato adesso facendo il duro lavoro del dirigente il duro mestiere del dirigente ho capito quanto fosse duro il lavoro che facevano i dirigenti che avevo quando io giocavo e qui poi quindi ci sono tifosi che sui social dicono è però il bene del Milan adesso però quando nel 2014 la gazzetta usciva dopo un Milan Parma 2 a 4 con la prima pagina hanno distrutto il mio Milan in quel caso però il bene del Milan passava al secondo piano sostengono alcuni tifosi critici su Twitter e quindi io credo che Paolo Maldini in cuor suo abbia preso atto del fatto che nel 2014 nessuno gli ha risposto mentre oggi lui sceglie di rispondere quella di Ralph Rangnick lui la ritiene non una critica ma un'invasione di campo rispetto a quello che aveva detto il suo predecessore Massimiliano Mirabelli invece ha risposto è chiaro che il Milan del 2014 era lo storico Milan di Silvio Berlusconi che alle proprie glorie non risponde a prescindere alle proprie glorie che sostengono un'opinione non risponde a prescindere ecco io vorrei senza entrare nel merito ripeto dei caratteri delle personalità e delle intenzioni di ciascun dirigente del Milan che il Milan tornasse ad avere dei canoni dei comportamenti riconoscibili quindi che non ci siano più iniziative a sorpresa che nel nostro caso non riguardano solo i dirigenti di oggi ma che nel nostro caso vengono da lontano io ricordo il primo comunicato contro l'amministratore delegato del Milan fatto dall'interno del Milan dopo una sconfitta in casa con la Fiorentina nel novembre del 2013 è da quegli anni lì che noi viviamo di queste situazioni ed evidentemente a queste situazioni bisognerà prima o poi porre un termine bisognerà prima o poi mettere un punto perché finché non si mette il punto finché non si riparte tutti pancia a terra tutti compatti tutti decisi tutti uniti verso un unico obiettivo il Milan farà fatica a tornare quello che l'attuale proprietà del Milan vuole riportare ad essere ed è quello che nella sua parabola nel suo destino nella storia del calcio il Milan è giusto che torni ad essere quindi sono andato in là coi tempi voi siete abituati un po' agli sproloqui però ecco spero di aver fornito degli spunti di aver messo sul campo di aver messo nel video tanti elementi poi si può essere d'accordo con questo elemento con quell'elemento spero che non siate d'accordo su tutto e spero che non siate in disaccordo con tutto però perché ho cercato di declinare di mettere insieme tanti elementi storici e di attualità tante valutazioni dei tifosi pro dei tifosi contro e anche questo i tifosi le fazioni dei tifosi finché avremo le fazioni dei tifosi che non si sognano i tifosi sia ben chiaro i tifosi non si divertono a dividere sensazioni ma se ci sono linee diverse dentro un club poi ci sono i tifosi che si riconoscono in una linea che si riconoscono in quell'altra che si riconoscono in quell'altra ancora e quindi il circolo continua a essere vizioso noi stiamo continuando ad inseguire da fine 2012 fine 2013 ad oggi un circolo virtuoso il circolo purtroppo con tutti questi episodi dei quali nessuno ha colpe specifiche siamo dentro questo momento storico ed è stato un impatto duro entrarci ed è tremendamente duro uscirne però finché non usciamo da questo loop e non rendiamo il circolo virtuoso continuiamo a viverne purtroppo uno uno vizioso e dobbiamo fare in fretta abbiamo perso tanti slot non possiamo dannatamente drammaticamente dal punto di vista sportivo evidentemente perché poi la vita ci insegna che i drammi sono ben altri non possiamo perdere evidentemente anche lo slot della prossima stagione la prossima no la prossima deve essere una stagione compatta unita efficace e riconoscibile in cui il Milan metta in campo tutte le proprie risorse senza sottrazioni ma solo con addizioni questa è la cosa che mi auguro questa è la speranza che ho nel cuore spero anche voi ciao a tutti